Ciao a tutti e benvenuti nel quarto, attesissimo episodio di questa rubrica Basic Trials in cui vi vado a raccontare il processo dell'anno tra Johnny Depp e Amber Heard questa è la quarta puntata quindi vi invito a guardare i primi tre video per essere allineati con tutto quello che avrò da dire perché se vi siete persi le puntate precedenti non capirete molto io comincio perché sarà infinito, ho dieci pagine di appunti davanti a me cerchiamo di entrare in tutti i dettagli più importanti e nel frattempo mi truccherò e vi scriverò giù nell'info box che cosa uso così possiamo iniziare allora se vi ricordate ci eravamo lasciati con la testimonianza diretta di Amber Heard quindi fatta con le domande dei suoi avvocati in cui ha raccontato tutti questi presunti abusi tutti gli attacchi che ha subito e le violenze di nuovo in questo video se devo nominare certi tipi di violenza li abbrevierò in VD e VS e c'è stata una pausa di dieci giorni prima di questa settimana di testimonianze in questi dieci giorni secondo me gli avvocati di lei o forse lei stessa sono stati su internet perché hanno cercato di ricontestualizzare alcune cose che per esempio sono venute fuori online e quindi quello mi è perso un po' strano comunque per il resto lei ha continuato con il suo racconto e in realtà c'è stato un momento un po' strano in cui ha detto dopo la domanda del suo avvocato che le ha tipo ricordato che in realtà le violenze erano iniziate prima di quando lei ha detto quindi nel 2013 quindi ha detto che in realtà si è confusa ed era iniziata nel 2012 non ci sono prove di questo di nuovo però appunto lei sostiene che siano iniziate nel 2012 e la cosa che è stata strana è stato che quando le hanno chiesto ma come fa a essere sicura che fossero nel 2012 lei ha risposto perché non puoi dimenticare queste cose ma se te le hai ridimenticate la volta prima la domanda se la pone comunque andiamo avanti parla della luna di miele che hanno fatto sull'Oriente Express dicendo che anche in quell'occasione lui l'aveva picchiata le aveva stretto una maglia intorno al collo fino a quasi a struzzarla e lei si era svegliata la mattina con ancora la maglietta intorno al collo insomma quindi anche la luna di miele era stato un incubo poi parlano del coacella cioè comunque del weekend in cui lui sostiene che lei o qualche suo amico abbia lasciato un ricordino di feci sul suo letto mentre lei appunto racconta la sua versione dicendo che il cane di Johnny Boo che è uno Yorkshire quindi quei cani piccolini aveva problemi perché da piccolo aveva ingerito un po' di erba divertente diciamo e per questa ragione quindi ha sempre avuto problemi con l'andare in bagno e che probabilmente il cane era rimasto sul letto quando lei stava facendo le valigie per partire per il coacella e quindi deve aver lasciato quel cane, quello che c'era sul letto ma la foto di quello che c'era sul letto in realtà io l'ho vista, ho visto un sacco di gente e devo dire che è più o meno grande quanto il cane quindi viene un po' difficile da pensare che sia stato effettivamente quel cagnolino a lasciare quei ricordini comunque vanno avanti più o meno cercando di screditare tutte le testimonianze avute fino a quel momento per esempio quella dei poliziotti intervenuti il 21 maggio nella penthouse oppure della sua infermiera praticamente hanno presentato gli appunti dell'infermiera assegnata proprio solo ad Amber era proprio la sua infermiera personale cioè pagata da Johnny ma comunque la cliente era Amber e praticamente sono gli stessi appunti che ha usato la dottoressa Hughes che è la psicologa forense del team Heard che hanno usato per dimostrare che appunto Amber abbia lo stress post-traumatico e non sia borderline o histrionic però invece in questo caso tutto ciò che aveva scritto sui suoi appunti che non andava bene non era vero semplicemente se l'era inventato quindi le cose che facevano comodo erano vere le cose scritte che invece non facevano comodo sono totalmente false lei non ha mai detto queste cose alla sua infermiera che non avrebbe ragione di scrivere nei suoi appunti del 2014, 2015, 2016 cose false personalmente penso oltretutto questa 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 infermiera non era lì a testimoniare erano i suoi appunti scritti nei momenti in cui la visitava o la vedeva comunque in questi appunti erano sottolineati diversi disturbi anche disturbi alimentari autonomismo in giovane età di Amber insomma ci sono una serie di cose che lei nega totalmente lei nega tutto poi passano a mostrare le foto del dopo il presunto attacco del 21 maggio della casa quindi ci sono queste foto in cui si vedono dei vetri rotti a terra devo dire pochi pochissimi nel senso loro dicono che questi vetri rotti sono magari bicchieri rotti bottiglie rotte vetri di quadri spaccati però le foto presentate sono un po' dubbie secondo me anche perché per esempio una una sorta di simulianza è stato dire che lui abbia tolto i quadri dal dai muri della camera del letto lanciandoli poi fanno vedere che questi quadri erano sul letto ma erano disposti sul letto totalmente intatti in un modo che non fa pensare che uno li abbia lanciati perché sono molto ordinati fa più pensare a una persona che li abbia tolti per portarseli via non lo so quindi presentano tutte queste foto che però sono molto in contrasto anche tipo macchie sui muri di vino eccetera sono molto in contrasto con ciò che è stato mostrato ed è stato prima testimoniato e poi mostrato con le bodycam dagli agenti della polizia che erano intervenuti perché gli agenti della polizia che erano intervenuti non avevano visto tutto quello che viene raccontato da queste foto e dalla telecamera appunto della bodycam della polizia che però è intervenuto dopo dopo circa un'ora non si vedono queste cose ovviamente loro hanno detto vabbè abbiamo sistemato abbiamo messo a posto ci sa però c'è qualcuno che ha testimoniato poi che c'erano macchie di vino sul muro del corridoio fuori dalla casa e che tipo entrando c'era una macchia di vino per terra però tutte queste cose non si vedono le macchie sui muri di vino cioè non sono facilissime da cancellare ovviamente devono aver visto anche i suoi avvocati oppure lei che la polemica che si è scatenata per la palette di Milani di correttori che nell'opening statement dei suoi avvocati quindi nella parte proprio iniziale dei suoi avvocati avevano proprio tenuto in mano dicendo la signorina Heard portava questa palette di correttori nella sua borsa per tutto il tempo della durata del matrimonio e della storia con Johnny Depp e Milani se vi ricordate ha smentito questa cosa dicendo che la palette non è uscita fino al 2017 anno in cui non stavano già più insieme quindi a un certo punto c'è stato questo momento make up in aula che è stato quasi divertente perché sembrava stesse facendo un tutorial in cui praticamente ha spiegato la sua make up routine di come nascondeva i dividi e tira di nuovo fuori questa palette ma ci tiene a precisare che non era quella palette specifica ma era una palette simile ovviamente l'ha fatto perché appunto perché Milani aveva smentito questa cosa c'è da dire che la giuria in teoria non dovrebbe aver avuto accesso a internet non dovrebbe essere andata su internet in tutto questo periodo di processo quindi non avranno visto quel video e quindi probabilmente questa precisazione che non era proprio quella palette allora gli avrà fregato quantomeno zero invece noi eravamo lì tutti a capire un pochino come si sarebbe giustificata e ha detto che non era quella palette va bene la palette è una palette di correttori colorati quindi una color correcting palette con il color pesca il verde per i rossori e poi due tonalità di correttori più colore pelle e praticamente ci spiega la sua make up routine ed è qua che entrano in gioco le mie competenze per riuscire almeno per lo meno a dire forse si è confusa nel modo in cui ha spiegato la sua routine per coprire i lividi perché la sua routine è questa lei prima di tutto mette un tinted moisturizer quindi una crema colorata una crema idratante colorata poi il fondotinta poi il correttore e poi prende quello che lei ha definito al posto di color correcting kit concealer kit concealer palette eccetera lei l'ha definito il suo bruise kit quindi il suo kit per lividi che se voglia e si è poi subito corretta su questa cosa dicendo il mio color correcting kit io lo chiamo il mio bruise kit però in realtà quello che noi sappiamo perché siamo nel mondo del make up è che i bruise kit sono i kit per fare i lividi effettivamente ci sono quelli fatti apposta per con le tonalità giuste per creare dei lividi finti ecco lei nel senso comunque è una che ne sa di make up a quanto pare l'ha sempre detto e appunto il suo trucco da tutti i giorni se lo faceva lei non si faceva truccare quindi viene da pensare tu prima ti fai la base e poi copri i lividi o i rossori con il color corrector quindi se hai dei rossori ci metti il verde sopra lo sappiamo tutti che si fa al contrario prima si color corregge il rossore con il verde o non so se c'è un occhiaio si mette prima il correttore pesca insomma si fa tutto al di sotto del make up e poi si va a coprire sopra con un fondotinta o un correttore ecco questa cosa a me personalmente ha fatto molto strano proprio perché comunque è una routine un po' particolare per coprire i lividi c'è da dire che nella giuria ci sono sette uomini no sei uomini e tre donne non so quanti di questi uomini si trucchino non so quante di queste donne si trucchino quanto ne sappiano i trucchi personalmente per me è una cosa che ha fatto un po' effetto verso la fine della sua testimonianza diretta affronta poi il tema della sua controcausa perché sapete che lui ha fatto causa a lei per diffamazione per 50 milioni di dollari che sono più o meno una stima dei soldi che lui avrebbe perso a causa del suo articolo e devono dimostrare che quell'articolo fosse scritto su di lui e che lui effettivamente abbia perso quei soldi lei gli ha fatto una controcausa da 100 milioni dicendo la stessa cosa dicendo che in realtà a causa di una campagna di pubblicità negativa attuata dal suo precedente avvocato che in realtà è ancora avvocato di Johnny Depp ma non è uno di quelli che lo sta rappresentando in questa causa ma in generale il suo avvocato questo Adam Wallman ha fatto delle dichiarazioni alla stampa dicendo che Amber e i suoi amici avrebbero orchestrato tutto tutta questa falsa accusa per guadagnarne soldi fama interessi eccetera e lei quindi dice che a causa di queste dichiarazioni fatte dal suo avvocato lei avrebbe perso anche tantissimi lavori ma il fatto è che in realtà si scopre che quello che lei avrebbe presumibilmente perso sono 2 milioni non 100 che sono quelli che le avevano promesso per Aquaman 2 lei è stata co-protagonista di Aquaman e praticamente in Aquaman 2 il suo ruolo è stato molto ridotto anzi forse non sa neanche se lei comparirà in questo film ma comunque in realtà nessuno l'ha mai estromessa lei ha recitato nel film semplicemente non è ancora uscito quindi non sa quanto di quello che lei ha registrato sarà effettivamente nel film penso che quelli di Aquaman stiano aspettando di capire come va il processo prima di decidere secondo me e poi ha detto che ha perso anche il contratto con la L'Oreal quindi questo è importante per capire poi i testimoni che lei ha chiamato per testimoniare a favore della sua causa o comunque per portare avanti la sua causa non solo quella che Johnny ha fatto contro di lei ma passiamo alla cross examination è stata una masterclass di veramente di giurisprudenza la legale di Johnny Camille Vasquez è stata incredibile una donna giovane veramente determinata brillante proprio ha fatto le domande giuste nel modo giusto nei tempi giusti è stata veramente incredibile ha iniziato la sua cross examination chiedendo ad Amber è vero che Johnny non l'ha guardata per tutto il tempo del processo e lei ha detto sì in effetti ho notato che non mi ha guardato è vero invece che lei l'ha guardato più volte e lei ha detto sì l'ho guardato più volte e praticamente Camille tira fuori un audio in cui Johnny tipo l'ultima volta che si sono vissi le avrebbe cioè le ha non le avrebbe perché si sente nell'audio lui le dice tu non vedrai mai più i miei occhi dopo quello che mi hai fatto e quindi è tipo una promessa che ha fatto e quindi per questo non la guarda per evitare che incroci i suoi occhi poi ci ha fatto riascoltare giusto perché non l'avevamo ascoltato già 5.000 volte l'audio in cui lei dice dillo al mondo Johnny dillo al mondo che tu un uomo sei una vittima di VD e così giusto per settare il mood dell'examination ci tira fuori poi la foto che un po' tutti ci siamo chiesti cosa avesse di pertinente con quello che lei aveva testimoniato ovvero in questo episodio nel 2013 in cui lui indossando tutti gli anelli che possiede avete visto le sue mani sono sempre coperte di anelli infatti Camille ha chiesto più volte ad Amber conferma quindi c'erano volte in cui lui non indossava anelli ha detto sì ma erano proprio rare cioè per come io conosco Johnny ha sempre avuto questi anelli quindi sottolinea questa cosa e dice quindi lui l'ha picchiata con tutti gli anelli le ha tirato una manata che lei ha sentito il labbro spaccarsi contro i denti ha visto volare sangue e poi l'ha ripetutamente picchiata in faccia e lei per quell'episodio aveva fatto vedere una foto con un livido sul braccio in cui si vedeva anche un po' la faccia e quindi le ha chiesto perché ha scelto di far vedere questa foto se tanto se l'aveva picchiata in faccia con tutti quegli anelli come è possibile che la sua faccia non abbia niente e lei praticamente inizia fin da subito a negare l'evidenza cioè praticamente vabbè lei dice che in quel caso lui l'aveva presa dal braccio e quindi per quello aveva lasciato quel segno però comunque la domanda rimane perché non aveva segni in faccia c'è da dire che Camille non si è lasciata minimamente intimidire dal veramente dalla negazione dell'evidenza di Amber perché semplicemente passavolta cioè lei aveva solo bisogno di far vedere far rivedere le foto associarle alla testimonianza che le aveva fatto e far direttamente così capire alla giuria che le due cose non combaciavano è stata molto brava in questo perché non ha dato troppo spazio ad Amber di spiegare in senso semplicemente ha detto quindi le ha testimoniate questo e questa è la foto che ci ha presentato ok andiamo avanti poi va più o meno in ordine cronologico tira fuori una foto di quando erano andati in Giappone le aveva testimoniato che in quell'occasione lui le aveva tenuto un ginocchio sulla schiena l'aveva picchiata e graffiata sulla schiena oltre che in varie altre parti del corpo e che quindi lei si era preoccupata perché in quell'occasione indossava un vestito scollatissimo dietro e quindi era preoccupata che si potessero vedere i segni quindi ovviamente Camille tira fuori le foto di questo red carpet con lei con questo vestito tutto aperto dietro bellissimo schiena stupenda senza nessun segno anche foto di faccia in cui non aveva nessun segno e quindi oltretutto quello secondo me aiuta anche un po' la questione che Amber ha portato ovvero che lui la controllava e non le permetteva di indossare degli abiti troppo succinti troppo aperti troppo sexy eccetera e questo va un po' in contrasto perché poi vedi questo vestito e dici boh quella volta lì andava bene a quanto pare chi lo sa tira anche fuori la foto sull'Orient Express dove le fa vedere qua lei non ha nessun segno in faccia giusto? non si vede e lei dice no nessun segno visibile no indossavo il make up quindi non si vedevano ok però poi fa vedere switcha un attimo l'attenzione sulla faccia dei giorni che invece sembra avere qualcosa in faccia sembra avere un segno in faccia e lei Amber tranquillamente risponde ah sì perché questa foto è stata photoshoppata così ok comunque di nuovo entrano in tema make up proprio c'è questo processo si è trasformato incredibilmente in un tutorial di make up io super gazata interessatissima e praticamente le fa le chiede un attimino quindi il trucco può coprire tutto può coprire tagli lividi eccetera Amber dice sì può coprire tutto tranne il gonfiore ma per quello c'è il ghiaccio basta mettere un po' di ghiaccio sul naso rotto e il gonfiore non c'è ovviamente qui è il momento in cui Camille fa vedere facci far rivedere la clip al James Corden show in cui lei è andata dopo il giorno dopo la sera dopo aver subito un attacco violentissimo da parte di lui in cui le avrebbe tirato una tessata sul naso spaccandoglielo quello che lei pensa sia stato un naso rotto comunque molto contuso ecco e ragione per cui tutti ci siamo chiesti ma com'è possibile che non sia gonfio non ci siano sence comunque anche solo quando ti fai leggermente male al naso cioè si gonfia parecchio è una zona molto molto delicata e lei appunto sostiene che quindi in quell'occasione lei sia stata truccata benissimo dalle sue makeup artist dalla sua makeup artist e che semplicemente con del ghiaccio aveva ridotto il gonfiore Camille arriva poi alla parte di testimonianza che veramente mi ha dato più problemi a riuscire a credere ad Amber ovvero quella sui 7 milioni che doveva donare 7 milioni che lei avrebbe avuto dal divorzio che avrebbe dovuto donare secondo le sue volontà e i suoi desideri alla ACLU e al Children's Hospital e questi soldi come sappiamo sono arrivati un membro della ACLU ha già testimoniato dicendo che sono arrivati 950 mila dollari di cui 100 mila di Johnny 500 mila di Elon Musk e 350 mila invece da Amber questi soldi lei ha giurato di averli donati nel trial in Inghilterra nel processo di Johnny contro il The Sun lei ha testimoniato che quei soldi li ha donati 7 milioni metà all' ACLU metà al Children's Hospital in più l'ha detto anche in un'intervista lei ha proprio usato la parola donato I donated 7 milioni e quindi qui Camille le dice ma non è vero cioè lei sotto giuramento ha detto che li ha donati ma non è vero e qua lei veramente fa un gaslighting incredibile cioè cerca di convincere l'intero universo che lei abbia ragione e il resto del mondo si stia sbagliando perché lei dice I pledged the 7 million dollars che cosa vuol dire pledge li ho impegnati li ho promessi cioè io ho promesso di donarli e per me è la stessa cosa ha detto che lei usa pledge e donation come la stessa parola con lo stesso significato ma pledge è un impegno è una promessa donation è donation gli hai donati gli hai dati non sono più tuoi e quindi quando le viene chiesto perché non gli ha donati ovviamente cosa fa lei dà la colpa a Johnny dice ah io avrei voluto dargli di tutti ma poi Johnny mi ha fatto causa ma qua ovviamente Camille non si è fatta trovare in difficoltà o in preparata perché ha detto sì ma Johnny ha smesso di pagarle quei soldi li ha dati tutti 13 mesi prima che le facesse causa quindi lei ha avuto 13 mesi per donare quei soldi perché non l'ha fatto ah ma io li ho impegnati ha continuato cioè continuava così è stato terribile da guardare e penso anche per la giuria comunque sia stato un momento veramente per Amber pessimo veramente pessimo perché se bastava ammettere no in effetti no non li ho donati cosa che poi l'ha portata a dire per forza perché lei non li ha donati questi soldi ovviamente le ha fatto la domanda anche che tutti noi ci siamo fatti ovvero dopo tutti gli attacchi che ha subito le violenze di ogni genere non ha mai cercato un medico un aiuto medico mai non è mai dovuta andare non so per esempio quando si è rotta il naso non è andata a farsi vedere non è andata a farsi raggiustare comunque lei di lavoro fa l'attrice e modella la sua faccia è tutto spero che se la sia assicurata perché è fondamentale per il suo lavoro quindi fa un po' strano che non sia mai neanche andata tipo non so da un dentista a ricostruire un dente magari perché comunque più volte ha detto che l'ha colpita sulla bocca lei non ha mai ricercato attenzione medica e ce lo dice come se fosse la cosa più normale del mondo comunque questo era il giorno 16 ovvero lunedì passiamo al giorno 17 ovvero martedì c'è da dire che in questa nuova giornata Amber è stata sulla difensiva fin da subito e ha ribattuto a qualsiasi cosa Camille chiedesse magari Camille faccia una domanda tipo da in cui chiedeva una risposta sì o no e lei cercava in ogni modo di dire la sua versione quando lei magari gli chiedeva mi deve solo dire sì o no sì o no e quindi è stato anche lì un po' difficile da guardare comunque un altro momento molto intenso è stato quando Camille le ricorda che lei nel 2012 quando lui a quanto pare era quindi già stato violento con lei lei aveva regalato lei aveva regalato a lui questo coltellone con scritto a sala muerte e praticamente a giorno mi fa vabbè ma portiamolo fuori questo coltello facciamolo vedere alla giuria perché ce l'avevano lì quindi gli fanno vedere questo coltello che effettivamente me lo aspettavo più piccolo bello grosso con una lama comunque importante quindi di nuovo hanno usato questa cross examination per far venire fuori tutte le incongruenze dei suoi racconti in cui lo descrive un mostro lo descrive come veramente una persona terribile ma terribile che si meriterebbe l'ergassolo per poi vedere invece appunto questi comportamenti incoerenti con la paura che lei dice di aver avuto di lui ma passiamo all'Australia uno degli episodi sicuramente di cui si è parlato di più in questo processo praticamente è quello in cui lui ha perso parte del suo dito medio destro e dice che è successo quando lei gli ha tirato una bottiglia che si è frantumata e gli ha rotto appunto questo pezzo di dito gli ha staccato proprio gli ha tagliato via lei sostiene che lui l'abbia aggredita più volte l'abbia anche aggredita con una bottiglia infilandogliela dove immaginiamo tutti descrive veramente una violenza incredibile e lei come ha giustificato questo dito che è saltato via ha detto che c'era un telefono un po' vintage di quelli montati a muro che lui avrebbe sradicato a mani nude e avrebbe ripetutamente sbattuto un po' su di lei un po' sul bancone un po' contro il muro per farle paura e quindi in quell'occasione lei pensa che sia successo in quel momento che gli si sia tagliato il dito allora fanno vedere le foto della casa che aveva fatto Ben King quindi l'house manager che ha già testimoniato a favore di Johnny che aveva detto che non c'era nessun telefono montato sul muro lui non l'aveva visto neanche tutto rotto era proprio una cosa che non c'era non ci sono tra l'altro delle foto di questo telefono non ci sono pezzi di questo telefono per terra insomma non si vede da nessuna parte ma lei sostiene che ci sia che le foto che ci sono semplicemente non sono fatte in un punto dove non si vede questo telefono e di nuovo come davanti a un sacco di prove foto video e audio lei cioè magari messa proprio di fronte a queste prove con Camille che le chiede vede che questa cosa è fatta in questo modo eccetera lei dice I disagree with your characterization quindi non sono d'accordo con come lei sta descrivendo questa cosa con le cose davanti agli occhi a volte anche sugli audio che vengono messi in aula lei sostiene che comunque quello che hanno ascoltato in realtà non sia esattamente vi ricordate poi che in Australia c'erano stati questi specchi tutti scritti embrattati da Johnny e poi su uno degli specchi c'era una scritta in rosso che sembra fatta con un rossetto che lui dice sia stata fatta da Amber e non da lui invece lei sostiene che assolutamente no lei non ha scritto niente sugli specchi è stato solo Johnny ricordiamocela questa cosa vi metto la foto perché poi voglio farvela rivedere tra un attimo comunque Camille puntualizza quindi lei ha fatto le foto agli specchi ma nessuna foto di se stessa neanche riflessa negli specchi ad esempio non è che non sia fatta la foto davanti allo specchio perché se no si sarebbe visto che non aveva assolutamente nessuna nessun segno di una violenza e Amber ovviamente sostiene che non sia per questo e Camille poi dice certo che non l'ha scritto lei perché se l'avesse fatto significherebbe che mentre suo marito era con un dito tagliato e sofferente lei stava scrivendo cose per prenderlo in giro sullo specchio lasciando ovviamente intendere che sia quello che è successo Camille cerca di dimostrare l'incongruenza dei suoi racconti anche facendo ascoltare un audio in cui distintamente Johnny dice tu in Australia mi hai seguito in cinque bagni e due camere da letto non sono riuscito a nascondermi tu hai sbattuto contro tutte le porte per farmi uscire io non ce la faccio più io ho bisogno di andarmene via quando tu fai così e lei di nuovo sostiene che neanche quello fosse vero un audio un audio del 2015 2016 neanche quello è vero poi credo di non aver menzionato che loro avevano un diario insieme un diario d'amore in cui si scrivevano si lasciavano dei messaggi e quindi Camille ha tirato fuori alcune pagine di questo diario e a parte che Amber ha una calligrafia stupenda stupenda una delle più belle che abbiamo mai visto incredibile a parte questo fa leggere qualche qualche suo messaggio e alcuni sono molto belli comunque si lasciano dei bellissimi messaggi pieni d'amore ma comunque alcuni sono un po' preoccupanti perché per esempio in uno le dice tipo io ti amo così tanto che a volte vorrei sventrarti tipo rip you apart che c'è Sibo non so un po' strano da scrivere se ci pensate in altri messaggi si scusa esplicitamente di avergli fatto del male dice che a volte lei lo ama talmente tanto che impazzisce eccetera quindi anche lì un po' strano e poi ce n'è uno un po' curioso in cui lei parla della loro luna di miele la descrive con tutti gli aggettivi più belli che possiate immaginare cioè la luna di miele è stata perfetta fantastica idilliaca meravigliosa tutto così dopo aver testimoniato però che in quella vacanza lui l'avrebbe cercato di strangolare con una maglietta quindi il mio concetto di meravigliosa forse è un po' diverso c'è da dire in questo messaggio in particolare si vede la sua calligrafia cambiare cioè si vede molto strana molto particolare perché non ti aspetti da una che ha questo corsivo così tutto bello sinuoso passa questo stampatello molto diverso e se voi andate a vedere la questo tipo di calligrafia secondo me comparato a quello sullo specchio con la scritta rossa fatta con rossetto io non voglio speculare perché poi alla fine tra l'altro Camille non ha messo le due cose a confronto però comunque io me ne sono accorta anche senza vederla a confronto quindi magari per la giuria sarà uguale si vede che effettivamente la calligrafia è molto molto simile Amber si è sempre definita come praticamente l'angelo della coppia sempre preoccupata per Johnny della sua salute che non bevesse e non facesse uso di droghe perché sennò si trasformava in un mostro eppure al loro matrimonio esce fuori una mail in cui si legge proprio esplicitamente che erano previste droga e musica cioè come after party dopo il loro matrimonio era previsto quello e la mail era da Amber verso adesso non mi ricordo più chi comunque era di Amber non era di Johnny quindi ovviamente questo fa sorgere dei dubbi su quanto effettivamente lei fosse davvero così preoccupata che lui ne facesse uso giusto se aveva previsto di farlo al loro matrimonio cosa che tra l'altro è successa Camille poi ci va ad ascoltare un audio in cui lei penso fosse in quel momento un po' alticcia prende in giro Johnny gli fa il verso lo chiama venduto gli dice che alla fine della sua carriera insomma gli dice veramente cose orribili e di nuovo tutto questo per dare valore alla teoria che non è vero che lei avesse paura di lui perché davvero se lui l'avrebbe cioè se lui l'ha picchiata come lei sostiene solo perché aveva riso di un suo tatuaggio cioè in questo caso non so doveva buttarla giù dalla finestra non lo so perché veramente dice cose molto molto cattive quindi altro punto secondo me a favore di Johnny e della sua difesa infine la cross examination si chiude con il video della testimonianza del 2016 che lei aveva fatto in cui se vi ricordate poi ve ne faccio vedere un pezzetto comunque era molto aggressiva anche un po' maleducata ha mangiato per tutto il tempo la deposizione è molto diversa da come la si vede invece in questa udienza in questo tribunale e quindi penso sia stato principalmente per quello che l'abbia voluta far vedere però non solo perché io non l'avevo vista questa cosa quindi è stata una grande sorpresa per me fa vedere questo pezzo come vedete lei visibilmente ha detto una cosa che non doveva dire quindi che cosa ha fatto lei sostiene che semplicemente stava cercando Johnny dopo l'ordine di restrizione per dirgli lei stessa che aveva fatto richiesta di divorzio per evitare che lo venisse a sapere da TMZ TMZ è un sito di gossip solo che poi si tradisce dicendo TMZ era già stato allertato del del divorzio però si rende conto che non lo doveva dire questa cosa perché probabilmente l'aveva allertato lei o qualcuno per lei e questo sicuramente non mette troppo in buona luce la questione che lei dice che lei stava cercando di proteggere Johnny che lei non l'ha fatto per i soldi che non è una rampicatrice sociale eccetera una cosa che mi stavo dimenticando di dire è che la Vasquez ha tirato fuori le foto del 21 maggio che secondo Amber sono state scattate sotto diverse luci per far vedere bene le sue ferite solo che a un certo punto mette prima una foto poi un'altra dice quindi queste due foto sono state scattate in diverse luci giusto? si giusto poi le mette una a fianco all'altra e le foto sono visibilmente la stessa identica foto in cui praticamente in una è stata aumentata la saturazione e il contrasto e ovviamente Camille le chiede esplicitamente ha editato lei queste foto aumentando la saturazione rendendo più visibili i rossori e ovviamente Amber ha risposto no io non ho mai editato nessuna foto a questo punto la cross examination finisce e comincia la redirect che serve agli avvocati di lei per ricontestualizzare alcune cose che ha detto il problema è che questa redirect è andata malissimo la Vasquez ha fatto veramente obiezioni a qualsiasi cosa vincendole quasi tutte perché secondo me Amber e i suoi avvocati non hanno un buon rapporto e non si sono accordati troppo bene o comunque Amber probabilmente ha preso totalmente la sua strada ha deciso di dire la sua verità di fare come le pare senza seguire le indicazioni dei suoi avvocati che quindi si sono ritrovati a doverla rimettere un po' in carreggiata senza che lei fosse effettivamente in grado di farlo ormai cioè era lanciata proprio a raccontare la sua versione finito tutto questo il giudice le dice può tornare ad accomodarsi vicino ai suoi avvocati Amber prende ed esce fuori esce fuori dall'aula cosa che di nuovo secondo me non ha giocato a suo favore perché comunque la giuria avrà visto questo atteggiamento che a mio parere non è stato particolarmente educato a questo punto iniziano le testimonianze in favore di Amber o per meglio dire portate dagli avvocati di Amber dal team di Amber non penso che tantissime testimonianze siano state poi così tanto in favore di lei però andiamo con ordine prima di tutto testimoniano i due suoi migliori amici dei tempi d'oro quindi degli anni in cui stava con Johnny che sono Ayo e Raquel tutte le testimonianze prodotte finora sono state pre-registrate non sono state live in aula a parte quella di Whitney la sorella di Amber chiunque altro ha testimoniato prima quindi uno sono noiosissime perché comunque sono decontestualizzate da quello che poi è stato detto dopo in aula quindi secondo me sono veramente veramente noiose due fa un po' strano che nessuno abbia avuto abbastanza boh amore verso di lei abbastanza empatia verso di lei da andare live a testimoniare perlomeno dei suoi amici con cui a quanto pare non è più amica con nessuno dei due Ayo e Raquel è rimasta amica dicono che sono semplicemente si sono allontanati negli ultimi tempi adesso non si parlano più comunque nessuno dei due ha testimoniato direttamente le violenze di Johnny su Amber ma testimoniano di aver visto dei segni su di lei testimoniano di aver visto Johnny fare uso di sostanze e di alcol testimoniano che Johnny l'hanno visto alterato in preda alla rabbia l'hanno visto essere verbalmente violento verso di lei e queste sono le cose che più o meno già sapevamo oltre al fatto che entrambi hanno vissuto per dei periodi a casa di Johnny oppure in un attico comunque di proprietà di Johnny comincia comunque Ayo che è la persona che avrebbe telefonato alla polizia la sera del 21 maggio 2016 dopo l'episodio del telefono infatti lei Amber ha chiamato Ayo per chiedergli di spiegare la questione delle feci perché appunto in quel momento stavano litigando di nuovo su questa cosa e quindi è stato quando ha sentito urlare Amber e Johnny che sembrava che stessero lui la stesse picchiando che ha chiamato la polizia sicuramente quello che lui ha raccontato è stato molto coerente con quello detto da Amber quindi corrobora la sua testimonianza fin troppo nel senso che era veramente uguale fin nei minimi dettagli anche nel linguaggio usato era molto molto simile Raquel appunto racconta che adesso non si parlano più lei e Amber ha anche raccontato ha testimoniato che una volta anche cioè aveva colpito anche lei Amber nel senso che stavano litigando no stavano discutendo perché tipo non trovavano dei bicchieri se non sbaglio fatto sta che poi Amber li trova in un posto dove Raquel aveva già guardato quindi Raquel l'ha spinta e allora Amber le ha tirato uno schiaffo non lo so anche per come ha descritto questo episodio non ho capito cosa sia successo onestamente quindi boh parla però dell'episodio a Hicksville in cui lui avrebbe Johnny avrebbe fatto del male a una ragazza che ci stava provando con Amber però la versione di Raquel è un po' diversa da quella di Amber perché lei in realtà dice di non aver visto Johnny essere fisicamente violento verso questa ragazza ha visto che Amber era tipo seduta in braccio abbracciata questa ragazza e Johnny si era avvicinato e comunque aveva un po' alzato la voce però appunto dice che non l'ha visto neanche toccarla come non ha assistito poi a successivamente ambere Johnny nella loro roulotte dove lui l'avrebbe picchiata e dove avrebbe poi tipo devastato tutto quanto come faceva di solito dice che però non ha visto quello ha visto semplicemente dopo la roulotte tutta messa su quadro così si è concluso il giorno 17 mentre il giorno 18 è stato solamente di testimonianze video tranne quella della sorella che è un attimino più interessante e che hanno tutti prendete questa cosa in comune nessuno a parte Whitney ha visto Johnny colpire Amber mai nella vita testimoniano alcune di queste persone testimoniano aver visto dei segni su di lei ma mai che lui la colpisse testimoniano tutti che lui bevesse facesse droga come ha dichiarato lui più volte adesso entriamo nel merito delle testimonianze ma cercherò di riportare solo i fatti un minimo interessanti perché sennò non finiamo mai più continua la testimonianza di Raquel che parla dell'episodio di maggio 2016 in cui Amber aveva detto che Raquel era arrivata mentre Johnny era ancora su di lei e li aveva separati Raquel invece testimonia che quando è arrivata loro due fossero già separati quindi non abbia visto effettivamente Johnny colpire Amber e dice poi che lui avrebbe preso una bottiglia magnum di vino sbattendola ovunque rompendo qualsiasi cosa appunto rompendo bicchieri buttando giù fruttiere si chiamano comunque frutta i quadri tutto quanto c'è poi la testimonianza del suo ex marito che era anche lui presente il 21 di maggio visto che entrambi abitavano in una penthouse di Johnny che praticamente è quello che ha fatto fare il giro della casa ai poliziotti che però hanno testimoniato che non avevano visto nessun segno di violenza domestica in casa e neanche su di lei invece lui sostiene che gli aveva fatto vedere le macchie di vino i vetri rotti eccetera abbiamo poi appunto di nuovo le bodycam dei poliziotti intervenuti un'oretta dopo che testimoniano che non c'era niente quindi la sua testimonianza per carità devo dire la sua testimonianza mi è sembrata la più credibile di tutte perché era molto domanda e rispondeva subito non stava lì troppo a pensarci non lo so mi è sembrato comunque più credibile di altri passiamo quindi poi invece alla testimonianza più corroborante di tutte ovvero quella della sorella Whitney infatti è la prima volta che qualcuno testimonia di aver assistito effettivamente a queste presunte violenze perché lei era presente nell'episodio della scala in cui sapete quando lei ha tirato fuori la sorella di Kate Moss che Amber pensava che Johnny avrebbe buttato sua sorella giù dalla scala e quindi gli ha tirato un pugno ed è stata l'unica volta in cui ha usato violenza diretta su di lui se no invece negli altri momenti era per difendersi il racconto di Whitney è abbastanza simile a quello di Amber anche se in realtà differisce per qualche dettaglio tipo chi era in cima alla scala chi era sotto quindi questo episodio non è troppo chiaro nei dettagli onestamente c'è da dire che durante la cross examination è venuto fuori che in realtà Whitney cercava di mantenere il più possibile la coppia insieme e tu ti chiedi ma perché visto che comunque picchiava tua sorella era così violenta era una persona così orribile perché lei diceva per mia sorella perché lei voleva starci insieme quindi io la volevo appoggiare in più durante la cross è venuto fuori questo nome Jennifer Howell che è a quanto pare una persona con cui Whitney ha lavorato e vissuto l'ha definita la sua chosen sister quindi la sua sorella acquisita anzi scelta e praticamente ci è andata a vivere insieme in un periodo in cui lei e Amber non si parlavano perché avevano litigato sostiene che avessero litigato perché Johnny si era convinto che Whitney stesse rilasciando dei segreti della loro storia alla stampa e invece Whitney sostenesse che invece non era vero e quindi se ne era andata di casa per questo però quello che in realtà si sa che aveva litigato con sua sorella fatto sta che questo nome potrebbe essere importante non so se verrà chiamata successivamente perché finita questa parte di Amber ci sarà un'altra parte di Johnny in cui porteranno nuovi testimoni forse e richiameranno alcuni testimoni che hanno già testimoniato quindi non so se uscirà fuori successivamente ma questa donna ha rilasciato una dichiarazione in cui dice che quello che Whitney sta raccontando e era già raccontato nel processo in Inghilterra non sia vero e che lei in realtà sappia cose diverse perché ai tempi Whitney le aveva raccontato cose diverse comunque vedremo questo però non è stato menzionato alla giuria quindi ne parleremo nel caso in cui venga menzionato passiamo alla testimonianza della makeup artist che ha truccato Amber prima del James Corden show che sostiene che lei le abbia visse questi segni in faccia che anzi abbia dovuto fare un trucco specifico per coprirla perché aveva il naso gonfio e rosso aveva gli occhi neri e il labbro spaccato insomma come le foto che abbiamo già visto sostiene per esempio che abbia usato un correttore pescato per nascondere gli occhi neri ne abbia usato rossetto rosso che comunque era un signature look di Amber il rossetto rosso era una cosa che portava spesso perché non c'era altro modo per nascondere il labbro rotto e gonfio e poi che per il gonfiore hanno messo il ghiaccio e infatti poi le hanno chiesto tipo ma quindi per il gonfiore cioè si può nascondere dice no il gonfiore non si può nascondere abbiamo usato il ghiaccio in cross examination esce fuori che comunque come makeup artist lei sia in grado sia di nascondere i lividi sia di farli di fare dei lividi finti e cioè così fun fact anche lei chiama il kit per fare le ferite per fare le ferite finte Bruce Kit passiamo poi a Christy Sexton che è la acting coach di Amber che comunque è anche stata amica sono amiche infatti parla di quando Amber le ha raccontato diversi episodi tra cui anche l'Australia e in realtà racconta che in quel caso le aveva detto che Johnny si era tagliato il dito con una bottiglia che è più simile alla versione di Johnny che a quella di Amber quindi anche lì chi lo sa quale sia la verità comunque in più dice che Amber aveva problemi a piangere proprio recitando e che quando piangeva recitando era molto diversa da come fosse quando invece piangeva veramente e questa cosa devo dire che io non voglio speculare però durante la stessa testimonianza ci sono stati dei pianti senza lacrime che un po' ti fanno pensare poi sicuramente no dopo cioè ci sono state le lacrime le abbiamo viste tutti quindi è vero ci sono state però delle altre volte invece era quasi strano perché aveva proprio la faccia del pianto ma era completamente asciutta in faccia una cosa interessante secondo me è questa questa acting coach la pagava lui la pagava Johnny e visto che lei dice Amber e altre persone che corroborano la sua testimonianza dicono che lui non voleva che recitasse che voleva che smettesse di lavorare che la manteneva lui e bassa cioè fa un po' sanno perché avrebbe dovuto spendere dei soldi per un acting coach se voleva che smettesse di lavorare e non recitasse nei film oltre al fatto che mentre stavano insieme lei ha fatto un sacco di film tra cui Aquaman che lui dice sia stato merito di lui che insomma sia stata coinvolta mentre lei invece dice di no che ha fatto un provino e l'ha vinto adesso veramente vado velocissima allora testimonio Bruce Whitkin che è un ex amico di Johnny con cui aveva la band ed è anche il fratello della sua prima moglie che dice che è presente da 4 anni non sono più amici perché Johnny gli ha detto che l'ha pugnalato alle spalle senza spiegargli bene perché non sono più amici ma comunque testimonio che non ha mai visto violenze su Amber non ha mai visto neanche segni su Amber che sì Johnny è una persona gelosa e che l'aveva visto anche con sua sorella che è comunque un uomo geloso e che però la sua gelosia non era rabbiosa o aggressiva ma era più triste preoccupata e confusa poi Tracy Jacobs e Simone è stata una agente di Johnny in quegli anni è stata licenziata nel 2016 e sostiene che la sua carriera fosse già in declino che fosse diventato poco professionale che in generale non era ben visto sui set poi testimonia Joel Mandel un'altra persona licenziata da Johnny con cui in realtà è andato anche in causa perché era un business manager e Johnny sostiene che gli abbia rubato un sacco di soldi e in più non gli abbia pagato le tasse per un sacco di anni facendoli tipo poi ovviamente perdere un sacco di soldi poi per i multe eccetera quindi non l'ho non l'ho trovato un testimone particolarmente affidabile perché che sia vero o no comunque c'è del risentimento e si vede un'altra testimonianza veramente inutile è stata quella di Adam Wallman che è l'avvocato di Johnny Depp tuttora e ai tempi è la persona che ha fatto queste dichiarazioni a cui Amber si sta appellando per la sua causa di diffamazione contro Johnny però il problema è che essendo lui ancora suo avvocato e forse questa cosa in realtà non decade anche nel momento in cui non lo sia più lui è coperto dal segreto professionale lui non può in nessun modo dire condividere ciò che magari si sono detti e quindi praticamente il 98% delle domande fatte dall'avvocato di Amber è stata fatta obiezione per il segreto professionale e quindi non ha risposto l'unica cosa che invece ha testimoniato è che ci sono nove testimoni sia neutrali sia da parte di Johnny sia da parte di Amber che sostengono di non aver visto dei segni sulla faccia di Amber tra il 21 e il 27 di maggio 2016 quando lei è andata a chiedere l'ordine di restrizione in tribunale con un bel segno molto molto visibile in faccia ecco tra l'altro adesso che ho fatto questo gesto mi è venuto in mente questa cosa che quando lei ha mimato quando Amber durante la sua testimonianza ha mimato il gesto di lui di lanciarle il telefono in faccia lei se l'è mimato sulla parte sbagliata cioè lei è stata colpita sul lato destro questo qua nelle foto è molto visibile e praticamente lei ha mimato che la stesse colpendo a sinistra è stato poi sentito un esperto forense in social media che ha parlato degli hashtag che sono venuti fuori dopo la causa intentata da Johnny in cui praticamente ovviamente sono tutti hashtag negativi per Amber tipo justice for Johnny Depp e altri è stata poi chiamata una produttrice esecutiva di Disney a parlare del rapporto che avevano con Johnny Depp quello che è venuto fuori che secondo lei l'articolo scritto da Amber Heard con queste accuse non è mai stato un argomento di discussione in Disney poi è arrivata a testimoniare Ellen Barking che è un'attrice che è stata coprotagonista con Johnny in Paure dell'Iro a Las Vegas e con cui lui ha avuto una storia puramente non romantica lei proprio ci tiene a sottolinearlo che sia stata una storia basata diciamo sul rapporto fisico e che lui ha lui ha concluso lui l'ha lasciata sostiene che bevesse molto e che una volta l'ha visto lanciare una bottiglia verso una sua assistente ma che in realtà poi non l'abbia mai visto essere violento né con lei né con qualcun altro e insomma siamo arrivati alla fine di questa settimana la prossima sarà l'ultima settimana e poi ci sarà il verdetto quindi vediamo un attimino quando fare un nuovo video comunque spero che questo vi sia piaciuto fatemi sapere voi cosa ne pensate io sinceramente non ho trovato questi testimoni poi così utili la maggior parte la più utile è stata sicuramente Whitney che ha testimoniato comunque di aver assistito alle violenze quindi dipenderà un po' se la giuria le crederà oppure no fatemi sapere voi cosa credete io penso di essere arrivata a questa conclusione penso che la loro relazione fosse mutualmente molto violenta e tossica ma non penso che Johnny l'abbia volontariamente attaccata così a caso come lei descrive che magari possa essere successo che l'abbia colpita più nel tentativo di difendersi che di attacco perché di solito lui era quello che sfuggiva dalle conversazioni quindi non lo so questa è l'idea che mi sono fatta penso che in generale comunque fossero assortiti malissimi e si siano solo fatti del male vicenda ovviamente sono delle nuance sono delle sfumature molto molto difficili da leggere in un processo in cui effettivamente non ci sono video che dimostrano lui che è la picchia o viceversa quindi non lo so vedremo un attimino come penserà la giuria se siete arrivati a questo punto del video commentate con l'emoji della lampadina non so perché e noi ci vediamo nel prossimo peace out e noi ci vediamo